Non ho capito un cazzo Ma perchè cambia? Si opera ogni volta Un sito Io non ho capito un cazzo Cos'è che hai di GPI? 400 1 e 4 Boy Non vedo niente Eh, è clean Ah si, magari rotate 1 rare Ah, 1 low shot Low shot Hello To your right, the bombo 1 a 50 HP Anzi 40 Sei sicuro? Si Curissimo Mi ho sparato male, sono in dk Beh Sniper Si wow MON YouTube Gli Il V置 абсолютно Oh, molto bien Laura Dimmi non lo visto, ma vedo un metadata E' un po' di te ramazzarli. E' un po' di chiacchia schilderà.